Compagni che occupate, solo la lotta paga e l'occupazione è una delle forme di lotta che pagano meglio. Grazie, continuate così. La piazza pronta a tutto è di stare nella piazza insieme a questa gente e vedere come va a finire e rimanerci sempre in quel contesto perché è dai movimenti che nascono le cose che poi fanno crescere la società e non dai dibattiti, nemmeno quelli più di sinistra, quando questi dibattiti sono completamente staccati dalla realtà reale del nostro paese perché in moltissimi di questi comunicati di gente che si dissociava a destra e a sinistra dagli scontri e dalle violenze c'era scritto si tratta di soggetti tutti estranei al dibattito e grazie ucazza perché se il dibattito aspetta che la gente va dove c'è il dibattito, bussa e fa siamo il popolo, possiamo entrare al dibattito, non succederà mai, è il dibattito che deve stare dove c'è il problema, non il problema che deve andare dal dibattito. Grazie. Grazie. Grazie.